Seconda serata dell'Ariano Music Station Se che tamba sul palco E poi dopo c'è Flori Tammaro Stiamo aspettando Flori Tammaro, esatto Non edizione Nell'evento creato dalla Prologue Nuovamente La ballata dell'1 e dello 0 C'è un po' di gente stasera ragazzi Fusilli, vino, pesatino Patane, pepicelle, sali secche E poi Birra artigianale Tra di tutti i bimbi ragazzi Venite, no non possiamo dire venite Perché domani è finito Oggi è l'ultimo Quindi vi attaccate Ok Frank Vi attaccate al Vi attaccate alla Tarantella Stiamo alla stazione Stiamo alla stazione Di un'Ariano Una parola Una parola Così Così Ci vediamo dopo Dai ragazzi